No, nessuno sa cos'è questa roba, vero? Perché nessuno ha bitcoin. Questo è un messaggio nel primo blocco della blockchain del bitcoin, scritta da Satoshi Nakamoto, chiunque sia, lui non si sa chi è, un messaggio, diciamo, nascosto in un certo senso, che annuncia un secondo bailout, in quel giorno accade che il governo inglese, britannico, fa un secondo bailout per le banche, cioè le banche e i governi ci hanno fregato, fanno pagare a noi i loro danni in un certo senso. Il bitcoin nasce come reazione a questo, a una finanza e all'elite, se vogliamo, che fa i suoi giochi, non paga mai le conseguenze dei propri errori, anzi si paga pure i bonus, eccetera, eccetera. Vi consiglio un film, La grande scommessa, ecco, quel film là vi spiega perché nasce il bitcoin. Chi ha creato il bitcoin ha creato la tecnologia, della blockchain e altre tecnologie, che ci permette di fare questi ragionamenti oggi. Vi devo spiegare cos'è il bitcoin. Supponiamo che un paesino, delle colline qua in Toscana, ci sia un problema al catasto, per cui, o per esempio viene bruciato il catasto, nessuno sa più di chi sono le case, oppure viene corrotto l'impiegato del catasto e dà all'amico del mafioso la bellissima villa che invece era della singola vedova. Insomma, viene rubata una casa perché chi aveva in mano il potere di registrare le proprietà è corrotto o ha altri problemi. Decidono di risolvere il problema in futuro in maniera diversa, di farlo in maniera decentralizzata. Cosa fanno? Dicono, siamo in centro in questo villaggio, dieci di noi si impegnano a portare in tasca un libretto rosso, o nero, come volete, con tutta la lista delle proprietà delle case. Ci siamo fino a qua. Quindi, allora, Antonio la casa verde, Riccardo la casa rossa, eccetera, eccetera. Questi dieci, che si chiamano nodi, hanno in tasca questo libretto che è uguale per tutti. Tutti i libretti sono perfettamente uguali. sono le blockchain. Le blockchain in realtà sono tanti libretti, sono tanti database. A un certo punto, Antonio vende a Danilo la propria casa, Danilo e Antonio vanno al bar, al bar ci sono tre di questi nodi che si siedono con loro, Danilo dai soldi a Antonio, e Antonio dalla casa a Danilo. Ci siamo? Questi tre nodi scrivono, Antonio ha venduto la casa a Danilo. Poi vanno in giro per il villaggio, dicono, guarda che Danilo ha comprato la casa ad Antonio, e tutti aggiornano questa lista, si chiama Ledger in inglese. Com'è in italiano Ledger? Le avete inventate in Toscana? La lista, le banche le avete inventate qui? Quindi c'è... Eh? Il libro mastro. Il libro mastro? Ok, perfetto. È un libro mastro dove c'è la lista, l'ultima riga è quella che dice, che certifica questa transazione. Uguale, entro sera, tutti si sono trovati al bar, questi 10 libretti sono perfettamente uguali. Ok? Altra caratteristica dei libretti, posso fermare per strada in qualsiasi momento uno di questi nodi, dire, mi fai vedere di chi è la casa verde? E lui te lo fa vedere perché è trasparente. La blockchain è aperta. Questo è un browser normalissimo che va a vedere tutte le transazioni. Ok? Quindi la blockchain è pubblica. Questi libretti in tasca alle persone sono pubblici, consultabili in qualsiasi momento. Qual è la forza rivoluzionaria della blockchain e quindi questi libretti? È che se io volessi fare una truffa come ha fatto il mafioso di prima, dovrei andare a falsificare almeno 6 di questi 10 libretti. Sono tutti scritti a mano. Dovrei andare a riscrivere a mano tutti questi libretti e aggiungerci una transazione fasulla alla fine. È un lavoro questa scrittura a mano che è eccessivo. Tanto vale comprarmi la casa, costa meno. La blockchain è questo, cioè ci sono migliaia di libretti, non sono scritti a mano, ma sono scritti con la crittografia, quindi falsificarli vuol dire consumare un sacco di elettricità e di potere computazionale, è troppo caro rispetto al vantaggio che posso averne. Questa è la blockchain. Non è che ci sia veramente altro da dire se vogliamo capire il concetto. L'avete capito questo concetto? Mi sono spiegato bene? Cioè facendo così abbiamo tolto la necessità di avere un catasto centrale e abbiamo decentralizzato la fiducia sulla verità. Abbiamo decentralizzato la verità. La verità è che la casa di Antonio adesso è di Danilo. E tutti lo possono confermare perché erano qua. Giusto? Eppure registrato. Cioè proprio... Siamo alla blockchain reale adesso ovviamente. Per fare il nodo devi avere nel bitcoin specifico devi avere un computer speciale. Però è permissionless. Altro concetto molto importante. Non deve chiedere permesso a nessuno. Se tu vuoi fare il nodo di bitcoin domani vai a comprarti il macchinario e diventi un nodo. Se vuoi uscirne, ne esci. Quindi non c'è un'autorità centrale dove chiedere posso fare il nodo? La cosa interessante è che il bitcoin è riuscito da zero senza alcun marketing senza una ditta centralizzata che lo spingesse a diventare una cosa molto grande grazie a un tranello se vogliamo che è la speculazione. Cioè la gente si è interessata e chiunque si è entrato nel bitcoin si è entrato perché sperava di metterci mille euro tranne fuori duemila. Io penso che per capire il bitcoin bisogna pensare che dietro ci sia l'intelligenza artificiale. non dico che ci sia però per capire se io fossi l'intelligenza artificiale ok che ufficialmente non esiste quella generale quella che veramente è intelligenza artificiale mi sarei inventato il bitcoin per poter comprare le persone per poter dire tu fai delle cose online io ti pago in bitcoin perché la visa non mi avrebbe mai dato le carte di credito sono l'intelligenza artificiale non esisto col bitcoin posso farlo. È una cosa assurda che sto dicendo ma per farvi capire e se l'intelligenza artificiale si fosse chiesta ma come faccio a fare a rendere bitcoin una cosa di massa faccio speculazione vado ad agire sul processo psicologico di questi poveri esseri umani che vogliono guadagnare facilmente senza far fatica e quindi spingo il prezzo in alto. Nel 2015 quindi sono tre anni nasce Ethereum con Ethereum si concepisce per la prima volta la possibilità di legare questa decisione non a una persona ma a un programma. Ok?